Io non ho ancora gioco, vai, voglio fare un game di vai, mi manca, basta Allora, che abbiamo, che abbiamo? Xante top contro Atrox, non me lo devo da un po', ma è sempre carino Andiamo a rimid, dobbiamo startare, dobbiamo giocare per la bot In realtà prendo e giuriamo per la mid Start o bot, va Dopo proviamo a fare late invade con Xante No, non l'abbiamo stoppato, sed Come è il match up in tu, in tu Elise? Ti sfonda? Ah, è ok, cioè mi sfonda, sì, un pochettino, ma non particolarmente Cioè, lei magari canca più o più di me, però da livello sempre poi dovrebbe essere relativamente easy Va bene Ah, non l'abbiamo maxato da W, si era bug Ecco perché, non vedo la passiva, ho detto, ma Bisogna che cancello gli auto o che? Io ne è bro, ora lo mandiamo a Africa Minchia, lo spacciano come lo io sui forti del mondo, porca puttana, fa schifo a cazzo Beh, non bisogna essere così aggressivi È tipo dire, bravo, quella del forte che mi hai visto, cioè True, sono fatto Se io ne è talmente bad che è un preditta, bro, hanno ragione Capo, ehm, flash, flash Cioè, avevo fatto una fast play geniale in predict Ma io ne è talmente bad che sono rimasto spiazzato e non ha servito assolutamente a niente Ma ti giuro che l'idea era bellina, sai? Ma Elise è spacciata, capo, no? Ma Elise è vivo e beggio Compensa Elise, non è red Ma... Vabbè E ha smarfato Io sono fine comunque, botte Però sono da rincare le retifizie E l'Eyes ha flashato ed è morto Bravo Io sempre Lei attiva l'Eloblades? Ti direi di sì Perché è il motivo per cui nessuno gioca l'Eloblades su buy Perché sempre non sprecono Ma l'Eloblades buy è pazzesco In realtà nessuno lo sa, ma è pazzesco Devo cooperare il dive, ma Elise è mica il seg, che devono fare questi scemi Ci sono, ci sono Si girano su di me Ok, ok Mi piace Non vengo io Cioè vi ho operato Va bene così Rush avoidings invece Ho paura di K-Sante Ma in realtà è K-Sante Dove avere paura di noi Ma questa cosa che è il... Cioè, perché questo non Instagram? Ma che... Stress La jungle è buggata Dai Gianna lo so che me la metti in una guardia Dai Gianna, Gianna check No Gianna, 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 Gianna Ah, Gianna La fammi una W almeno Gianna si sta dormendo Però non la farete cercare con la direzione, ma è pazzo Che frecabbo fa? Cucina, cucina Ma il mio red up no Sì, è capitolo, è sto capitano Sante ancora ulti No, punteremo pure Exsante Cioè, magari non è Exsante Exsante è ormai un Exsante Cioè, sarebbe morto se non fosse stato Exsante Non male sono forte Doggio tutto Aha 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 Certo Riot Certo Riot Games Bel champ No davvero davvero bel champ Il mio champ ragazzi Ricordiamo il mio champ La mia passiva Ricordiamo la mia passiva Ogni terzo d'attacco Su questo bersaglio Infligge D'anni fisico giuntivo Per il 5% La salute massima Ridutisce la sua maturità Il 20% E conferisce By 30% Attack speed Per 4 secondi Ok 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 Si 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 Molto bene Molto bene ragazzi Io non potrei essere Repetitivo ma botto il gratis Ah bravamente La malattia Altro che botto il gratis Ali sta stramando Ma non ha il 6 Non ha ancora il 6 Non ha il 6 Non ha il 6 Già non è il primo Non è stupido Non è il primo Prima gli stupi Già Ma cosa fai Gianna No vabbè Ma non è vero Non è vero Non è vero Bro ma non è vero Ma non è vero Gianna è il tizio che in chat Di scriveva Please be human Vero Non lo so Non ho visto A me lo scriveva No no Diceva No no Senza flammare Diceva Jungle please be human Il mio ultimo jungler È stato molto particolare E penso fosse lei a scriverlo Sono abbastanza I supporti in questo gioco Sono le persone Che non hanno Eh capito Poi mettervi A fare i test Con le formine Quello possono fare Il quadrato Va dentro il quadrato Esatto Quello è il logo massimo Massimo esprazione Del logo Capacità cognitiva Quadrato Va nel quadrato Dai che lo vinciamo Stai La Lorelaise La Lorelaise è un bot Mi rifiuto di perdere Non trovo stai Gianna Flash C'è stato un delay Di Gianna 3 3 3 3 3 Tra il flash E il Gianna Che ha comunque Salvato Ari Devo ammettere C'è stato un delay Di 7 secondi Tra una spella E l'altra Quasi come se stesse Cercando Sul lato spiera Il tasto È presente Il boomer Quando scrive Non lo so Mi madre Quando scrive La schiera C'è La U Dove Basta Focus Bot No vieni Bot È seri È seri Un cartone Alla scrivania Prezzo anche Ah stai Mi defri Mi defri No joke Mi defri La mucca bot Vedo vedo C'è il su blu Tu devi che c'era la praio Per me dobbiamo andare qua Già Non ti prego la tua Perché prego Il TTS è uno scritto in maiuscosa No Non leggi un cazzo Why every kill you take Hai ragione Hai ragione Qua Quest'3rd match Quest'3rd match Sono d'accordo con lei Quest'3rd match I agree That was the match Qu'è serato match Baito Baito Ma vado No 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 Non vado Non vado Non vado Apprezzo la richiesta Però No Ti vorrei accontentare Però C'è l'ice bot Comunque Allora non fai Non fai È un bait Baito E ci piace Stupido Gianna ha stato I help Respy da parmi Questa giocata di Gianna Mi è già f***a Aspetta Ti faccio vedere Che quanto mi stai Investendo Baito Sta zitto Che ti stiamo carriando Fai tu Fai tu Lascia romare Carriare Gianna Che sta Tutta Non bionda Sta Mi fai bussare Scimmia Stai zitto E fai il weak side Oh scemo Guarda bro Se non faccio Mamma mia Mi sono distratto Ma sei veramente un cane Sei Ma sei un dog Ma non lo prendi mai Ma che vuoi Ma facevo il giro Dall'altro lato Stai in posti Ah scemo Vai prendere lo scatto Stai zitto Già Un bel gesto di altruismo Gli avversari sono qua Sono tre bot Lo giuro Sono tre bot Sono qua Non so se fanno l'unpat Vengono a prenderti Ma Ti vado a prendermi Chiaratemi intanto Vabbè Cazzo Stai ricollando Quanto affidami Gianna Parecchio Vale la pena fare ex drinker Secondo me si Faccio ex drinker E poi vado Standard Sky Ah sono qua Ticolo da Ma vogliamo risettare Rispondere a questa play Invece di fare herald Secondo me non dobbiamo Però smappare top No no Bisogna rispondere a questa play Qua vogliono cringeare i ragazzi Qua ritilt Vaffanculo Guarda Guarda velcro Forzate top Di velcro si sposta Io mi sa che è lì Oh Liari ha fatto una bella giocata qua Ah 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 Che kid Che mi ha flashato sotto Il regalo Allora guarda questo Ma è legale Il regalo Il regalo Il regalo Il regalo Mamma mia Ma te te No mi stavano Mi stai Bro ma sei tu che mi ti concentri Ma mi tre ore che mi fa ridere Ma ci vuoi stare zitto un attimo Ho mistato la cuba Aspetta mi stanno chiamando Questa è Fragola Fragola dimmi capo Nello spazio C'è la mucca dietro C'è Belcoz dietro Ma che cazzo fa questa animale Hanno stato ulti di Ione Hanno stato flash combo di Alistar 40 la mia R Mercury game Sprecato il flash Se non serviva Vai vai Canco ancora Basta Ok Guardami Guardami Non ho l'ult Non ho dopo Mamma mia Siete Ok Ione che flancano Ione indietro Troppo forte Troppo forte Drago Mountain Questo terzo non lo dovremmo lasciare onestamente Però io non ho R Io ne ho R up E L'Aison non ha Cioè siamo forti Ma dovremmo aspettare i nostri cooldown Per giocare to be honest Non abbiamo R di Ari Oddio sono l'ultimo con il cooldown E Atrox è un bel flank Capiamo Una cook something Maybe Alistar è ancora una flash Dalla play di prima Quindi sicuramente Riempire flash In gauge Io ho fatto Alcinato L'accuso Sono un po' splittati Gli avversari L'ho smezzato Ione No vabbè Mi hanno trollato Ari e Atrox È illegale Il fight Ha vinto Ma io non posso Non mettere Dando su un campione Vabbè 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 Ciao Sì sì Vado Questo è Baron Vabbè Ancora Ancora Guarda 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 È Baron Sì Sono un bot Andiamo a fare il Baron Non ho tanto danno No 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 3 3 3 Occhio la ultima Ione No ma non fanno niente Non fanno niente Non abbiamo Atrox Wait Atrox è nato bot Non ci voglio credere bro Non vuoi credere al fatto Se è nato bot Per l'animale Ari non è rap Perché mi segna il rap di Ari Non l'ho avuto Sì Ovviamente troppo ditto Boh secondo me Eh lo so Lo so L'agreo Piano Chi ha bisogno di un piano Loro Sanno che lì Non ho guardato Perché è bello Aspettiamo i due item Di Atrox Togliamo L'altro se non lo considerare È veramente un bot Tipo Guarda qua Guarda qua Ma come può essere legale Sta roba Atrox sta beccando Non fai data Non fai data Ma come fanno ad essere gli scarsi Ma non posso proprio andarci Come fanno ad essere gli scarsi T3 Guarda qua In realtà non è male Nostra fight D'altro lato Vorreste andiamo a play bot Tanto abbiamo un po' di tempo Viene restare Viene al loro push Ho avuto più Però il bulbo Da visione Viene a stare qua E tra Jesse Aspettate indietro Stiamo indietro Guarda 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 me Guarda me Guarda me Hai ultimi 10 Quanto è clean da vai? 50 Devo Non morita Non morita Non morita Però loro possono lasciare Qua 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 Questa bash Questa è la mia R Guarda il mio flank Guarda il mio flank Guarda il mio flank Guarda il mio flank Guarda guarda Ci sei con l'R Sì 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 Abbiamo perso il fight No vero? Ma già non boccano Una volta Cioè non so Cosa c'è Io ho smarfato Ce lo devo flippare? Sì Devo flippare 20 secondi 30 secondi Gramp era sbagliato Ma mi sono Ho pensato Dopo aver ucciso Belkotz Dopo aver ucciso Ione Dopo aver ucciso Lice Pensavo che il fight Fosse vinto My bad Va bene Nice Lo stesso Ariel TP Ariel TP No 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 Ho un grappa qua Wait what Ariel TP Ariel TP 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 chi ha bisogno di me? giocate slow e ci siamo vediamo spendhagen ok ci caccia sodia finiamo il game aspettate me 5 secondi big ok faccio 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 limitazione ahahah bravo questo game devo solamente prendere e saltare la finestra questo devo fare se mi avessi non lo so veramente io veramente 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 e tu dici no tp bot no perché io pensavo volessi tippare mid ma che cazzo c'è uno che ha pingato mid di pushare mid pensavo fossi tu comunque aria non è stata malvagia e già hanno fatto anche delle cose ok però mamma mia però non lavoro comunque troppo male c'è troppo brutto botto posso scrivere che è tipo un film il sopravvissuto è vero poverino sei stato banato i game che schifo che schifo che schifo ma io non posso non posso capisci non posso no i no 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 chi chi Grazie a tutti.